Di Costanzo, Giuseppe Di Costanzo è il delegato della firma che segue la vertenza Telespazio. Qualche giorno fa il Vice Ministro dei Vincenti alla Camera ci ha informato che la vertenza è in dirittura d'arrivo. Facciamone il punto. In effetti il Ministro dei Vincenti fa riferimento a un incontro che c'è stato la settimana scorsa tra Finmeccanica e i sindacati nazionali. Finmeccanica ha avvocato a sé un po' la vertenza e si è presentata con una proposta. Quali sono i contenuti di questa proposta? Cerchiamo di capire se voi la condividete. Finmeccanica ha proposto lasciare un piccolo presidio di 5, 6, 7 unità, lo stretto necessario per coprire il progetto Mistral, il resto a Roma. È proprio chi non volesse lasciare il territorio una soluzione alternativa di ricollocazione in Selec o in Alenia. Ma mantenere a Napoli un presidio di 5, 6 persone significa comunque chiudere una realtà come Telespazio. E ci sembra, se mi consenti, una furbata da parte di Finmeccanica, mantenere così anche i finanziamenti avuti dalla comunità europea. Perché ricordiamo che Mistral è un progetto del DAC, quindi finanziato con i fondi europei, che un'azienda non del Corridoio 1, cioè non meridionale, non potrebbe avere. Hai perfettamente ragione. In effetti hanno fatto un po' la cosiddetta mosso dello scacco matto. Noi invece, con l'appoggio anche della regione Campania, anche sfruttando l'appoggio che abbiamo dall'ASI, dal mondo scientifico, dall'università, dal professor Carrino, presidente del Cira, noi vorremmo invece che tutta la sede permanesse sul territorio, sfruttando l'occasione che ci ha proposto il Cira. Ma qual è la soluzione quindi che consentirebbe di mantenere in piedi tutta la struttura di Telespazio? C'è il programma FRC, quello che nell'ultima ministeriale è stato sottratto alle vostre attività, che probabilmente è l'unica vera soluzione che garantirebbe la sopravvivenza dell'azienda. Sì, in effetti noi vogliamo tenere tutto il gruppo qui a Napoli, in modo tale, grazie anche alla Sfruttando, la ministeriale che è andata bene nel 2014, cercare di riprenderci quel progetto FRC, visto anche che i belgi ad oggi hanno chiesto un rinvio e quindi non sono ancora in grado di far partire le loro operazioni. Ma sui contenuti invece i lavoratori che cosa ne pensano? Avete già avuto un primo confronto? Sì, diciamo che il ministro Vincente infatti non si capisce nemmeno dei numeri a cui fa riferimento, 26. Noi ribadiamo che siamo 33, siamo 33 e tutti e 33 vogliamo restare qui come gruppo delle Spazio Napoli.